Dio Dio mio Dio Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Ora, il programma non mi ha registrato un cazzo Non meglio mai invertito Le parti che dovevo registrare non le ho registrate Quelle che non dovevo registrare le ho registrate Immaginate quanto io posso essere incazzato in tutto questo In tutti i casi non è che abbiamo fatto granché Siamo stati un po' all'esplorazione Comunque alla fine non vi siete persi Tantissimo Perché ho trovato un po' di roba Un po' di cibo Esatto, abbiamo venduto qualche cosina E mi avete anche regalato del cash Quindi grazie Non posso vendere al questo Vabbè vendiamolo 16 pezzi Tutti ci facciamo niente, il quarzo è totalmente inutile Al massimo ce lo ricompriamo Ok perfetto, grazie Venduto il quarzo, la lava non so se si può vendere Comunque per ora la lasciamo qua Ero alla ricerca di basi da griffare I diamanti pure lì possiamo lasciare qui Il ferro l'ho cotto tutto Ci servirà ovviamente Nel senso portiamo via magari un secchio Che ci può far comodo per prendere qualcosa Per il resto nient'altro Non voglio prendere un po' di cobblestone Giusto così alla buona Perché ci può dare una mano Ci può servire Ora in che direzione andiamo in questa Epp, porca troia Oddio Aspettate Fammi tornare a home At home Mangiamo e poi ripartiamo L'idea era quella di fare un RTP In modo tale da allontanarsi Dal punto iniziale Da dove stiamo noi E prendere più roba possibile Ho trovato le patate Voi non sapete Che cosa vuol dire Guardate Slash shop Guardate quanto costa una patata Fottesega di drop Cosa Porca troia Ecco con la farm Ok questa è la nostra farm Bestia Per ora faremo soldi Con la farm di patate Non è automatica però Che cazzo c'è ne C'è cazzo mene ragazzi Cazzo mene C'ho le patate C'è con la patata vinci sempre Se c'hai la patata c'hai tutto Basta C'è chiudete le valigie Signori Andiamo a Berlino Per Stavolta ci si va davvero a Berlino Grande che culo Mamma mia Eccezionale Non me l'aspettavo Non ci speravo Cioè ho aperto la cosa a patata Tanta roba Tanto tanta roba Peccato che lagga ogni tanto Sto server Eh Non so che fare Ora l'idea è che ho trovato Anche un blocco di smeraldo E questo costicchia un pochino No quindi noi ce lo prendiamo Ho trovato anche un altro diamante Quindi di roba ce n'è Ci può stare Per non rischiare di cadere E morire male No Disle Oddio Ecco la ragazzata Ma guardate Ma guardate Ma guardate Cazzo Fermo 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 Aspetta Ragazzi Allora Ok ho fatto il fail della madonna Ma non è stato male perché mi hanno regalato Tipo due stack di netherworld E la netherworld è la cosa che Costa di più in assoluto Guardate un po' Agricoltura netherworld La venditi da 100 L'acquisti costa Cioè è un botto Più delle patate Quindi fanculo Ci abbiamo guadagnato la cosa che No le zucche Le zucche costano così tanto Le zucche costano così tanto Oddio I meloni costano così tanto 160 Madonna faccio la farm automatica I meloni Io posso comprare redstone Cioè se posso comprare Allora Blocchi Ok posso Quindi craftare roba Si Minerali redstone Posso comprarmela Drop mob Posso comprare Tutto Coloranti Ragazzi Siete pronti Adesso ci iniziamo a fare le farm Mega galattiche E andiamo ragazzi Questo è tipo Level Tony Stark Mi hanno regalato altri 13.000 cash Sono diventato ricco adesso Ma sono diventato ricchissimo Veramente Allora l'idea Qual è? Che io devo prendermi Attenzione Ping Si ho il ping tipo Alle stelle Ma mica per niente Sapete perché Perché sto caricando un videozzo Ergo c'ho il ping a 6.700 Sto pillarone Chi cazzo l'ha fatto? Ma mica l'avrò fatto io Ma non credo Non mi pare Ah quando mi sono venuti a griffare Esatto Lo scorso Cosa Qua sotto Bene che c'è una fonte d'acqua Io però non posso attualmente prenderla Devo tornarmene T slash home Mi serve terra Ma mi serve un botto di terra Per il semplice fatto Che devo creare Guardate un po' Dirt Cos dirt Tutta la dirt Che posso prendere Mamma mia C'ha il ping a 6.400 Cazzo Ok Perché voglio fare la farm La prima farm No? C'abbiamo i meloni Ok? Ole Non mi ispirano Però i meloni Sì Perché i meloni Ce li ho C'ho anche le zucchine C'ho anche le zucchine Le zucchine Ho detto zucchine veramente Da terra costa un botto Ergo Andremo a prendere Oggi andremo proprio a caccia di terra Prima mi suicido Vado a caccia di terra Prendo un po' di terra E andiamo Si muore malissimo Bene Ho posato Questa roba qua Ovvero che cosa ho posato La lava Così utilizzo soltanto un secchio Preferisco Andare a utilizzare soltanto un secchio Ecco l'acqua sta lì Quindi andremo a fare Una sottospecie di parkour estremo Tac Perché poi col ping alto Il casino è doppio Una cosa del genere È devastante Mi sta scendendo un po' il ping Però il fatto che il problema è sostanziale È proprio che c'ho il coso Sto caricando un video E questo si influisce parecchio Voglio prendere Vedete Mi si ripresenta Non capisce bene il server Che io sto dando sta botta Non è problema del server Appunto un problema mio Di ping Ok Ho preso parecchia dirt attualmente Non ho shield touch Non mi interessa Porca miseria Cazzo Non devo stare attento a sta roba Prendo questa e poi me ne vado Il quarto blocco di dirt Che non mi ha minimamente dato Non credo Comunque Un po' ce ne abbiamo Ok perfetto Tac Preferirei tenere tipo acqua Qui Invece che la dirt Cioè che la lava No è preferibile Molto preferibile Perché l'acqua non ci muori O la lava si cazzo Allora on dance Tac Però mi serve No un altro secchio Mi serve È necessario che io faccia un altro secchio Perché tenerli così è problematico Ora devo claimare la roba Si devo claimare il tutto E mettere Delle cose sopra più carine Cioè devo Devo ricordarmi A mettere Dei blocchi sopra le ceste In modo tale Che non mi possano prendere più la roba E questo è interessante E molto 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 interessante Adesso Devo allargare il tutto Quindi allargheremo la nostra zona La faremo anche abbastanza carina Perché se la facciamo tutta unire Cioè tutta di colori diversi Fa schifo al cazzo Quindi ci prepariamo Prepariamo un sacco di stone brick Ti slash shop Se mi apre lo shop Infatti quel cazzo che me lo apre Questa quanto costa Non costa un cazzo Praticamente Prendiamo stack Uno stack Conferma 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 Ok perfetto Ho un sacco di stack Vediamo quanti soldi ho speso Non dovrei aver speso tanto Cioè nel senso di cash Infatti Non ho speso una cazza La duemila Calcolate E ci vuole Facciamo una bella piattaforma Ora il ping è tornato accettabile Devo essere sincero Non mi sta laggando Funziona tutto perfettamente E eccezionale E sta assumendo tutto Un aspetto molto molto più ordinario Guardate un po' quanto è più carino Senza tutto quel Truglio Casino totale Di blocchi Ok Comprarli è figo Si potesse fare anche su minecraftita Non sarebbe Non sarebbe male Diciamo Ce l'ho però Vabbè che bisogna fare Signori belli Non si può avere tutto dalla vita Detto questo Si ho perso della terra Però fotte sega Non potevo fare altrimenti Volevo togliere tutti I blocchi che discostavano tanto Ok Come prima cosa Successivamente metteremo Quelli Cioè Successivamente poi rimuoveremo Tutti Però adesso L'importante era Fare Sapete questo me lo prendo Che cazzo che me lo sono preso Oh questo è un sapling Oh questi sono sapling Grande Ok I sapling sono buoni I sapling sono molto buoni Dato che voglio fare le cose per bene Prendiamo l'altro sapling Ce ne torniamo Get Home Ho fatto tipo Ho provato a fare le claim Tutto il resto Ecco Questi sci permetteranno Di fare tante altre belle farm Molto interessanti Automatiche Automatiche No Automatiche il cazzo No Però vabbè Figa Ci prendiamo un'accetta della madonna E vendiamo I sapling anche Si vendono Quindi Tanta tanta roba Rimuoviamo tutto Rimettiamo tutto a posto Ok Buono 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 Ha tutto un aspetto ordinario E carino E fantastico Ok posso anche Io secondo me posso morire Tranquillamente Non mi interessa Particolarmente tanto Voglio prendere un'altra cesta E la devo mettere Però di qua Per il semplice fatto Che poi andremo a fare What the fuck Perché non me ne fai pensare Non me ne fai pensare Qui si E qui no Ah Grande free Porca mi si giochi a minecraft da vent'anni Ancora non ti ricordi Non si possono mettere ciò sto vicine Ma porca Oh ma vi giuro Incredibile È patologica Quasi qualcosa Ok Bene E poi andremo a mettere dei blocchi sopra Devo claimarla La questione O per claimare Ancora non ci ho capito un cazzo Devo essere sincero Non so Però mi faccio spiegare Perfettamente Dato che non ho mai giocato a sti giochi Quindi non lo so Sui server ci ho giocato poco 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 Quindi tutta la mia esperienza Si sta facendo adesso Si sta formando ora E bene o male Davvero mi rimane Ancora difficile Non è tipo Minecraft con i comandi C'è tipo il claim Non so come si faccia di preciso Però fotte sega Guardate abbiamo già Riempito Abbiamo fatto un bel lavoro Abbiamo modificato tutta La Eh tutta la stanza Beh sì Tutta la nostra parte di regione Tutta la Sta roba qua Insomma che sarà Poi la nostra casa Diventerà la nostra casa Una volta che avremo Materiali anche per costruirla Ora Allora Sul claim non ci ho capito un cazzo Perché mi da Non so come funziona Cioè so che si fa con la pala E tutto il resto Però Stavo tentando di claimarlo Ma mi da Prima che mi servono più blocchi Poi mi dice che devono essere Sei di altezza Sei di larghezza E eh fava Allora non ci capiamo Non è possibile claimare Tipo se faccio un claim così Mi dice Unit 25 more block Vabbè Insomma Un po' come cazzo gli pare Poi adesso mi informo bene E lo facciamo Ho detto questo Una volta claimata Tutta sta zona Si possono fare tipo Un claim ogni 4 ore Per un male Entrando e claimando Tutta sta zona Dovrei riuscire poi A poter fare grandi cose Allargheremo in su Verso l'alto E potremo iniziare a fare Le nostre farm Esatto ci vorrà un po' Ma Non più di tanto in verità Perché poi Mettendo sulla prima industria Di cash È easy no Cioè una volta che abbiamo Davvero sistemato il tutto È facile facile Prendere roba Adesso mi prenderò Gli item più importanti Me li metto nell'inventario Tipo quelli che costano di più Perché se no Me li fregano un'altra volta E vorrei assolutamente evitare Tipo another world Questa roba qua Questo qui I sapling Questo non lo so Quanto costa Questo si me lo prendo Le stringhe nemmeno Questo mi servirà poi in seguito Perché in modo tale Se dovessero venirci a griffare Ovviamente non prendo nulla Perché è roba Che costa Oggettivamente poco Il ferro Oppure non voglio Tenermelo Dato che non posso ancora Acclaimare Una volta che riesco a acclaimare Poi potremmo lasciare Tranquillamente tutto Nell'inventario Va bene ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto In tutti i casi Vi ringrazio tantissimo per la visione Vi lasciate un mi piace Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se avete fatto di condividere il video Su facebook E fammi sciare le persone Mi raccomando passate in tutti I link in descrizione Facebook, Instagram e Telegram Siamo come al solito A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi